... Dalle 6 e mezza di mattina del 16 luglio 2017 mi trovo a Visizia nella penisola del Pilion tutti dormono e io continuo a registrare questa mia video enciclopedia perché sto lavorando a una video enciclopedia che si intitola parole per gli amici non laureati e gli amici non laureati la faccio perché i laureati non ascoltano parlano sanno già tutto lo sanno e lo ripetono ma non ascoltano non hanno tempo per leggere come diceva Guido Calogero alla fine della vita a un amico suo giovane ah non ho tempo per leggere solo per scrivere gli intellettuali non leggono la realtà leggono libri e cagano libri e scrivono libri e scrivono libri naturalmente per chi? per i colleghi per gli studenti io invece scrivo registrando per i falegnami per i serial killer per i fabbri i vigili urbani i poliziotti e perché scrivo registrando? perché oggi pochi leggono molti scrivono ma molti vedono video e ascoltano e quindi io cerco di parlare la lingua che tutti costruiscono con gli atti e le parole e e lo faccio di mattina presto per ordinare le idee e per cercare di dire a me stesso e agli altri che bisogna continuare a leggere e a inventare linguaggi nuovi di comunicazione grazie a tutti Grazie.